Io vado sul locale. Di nuovo insieme per questa terza parte della nostra rassegna stampa abbiamo ampiamente parlato di quelli che sono i fatti più rilevanti di giornata. Purtroppo ancora un ennesimo episodio di estrema violenza con il ritorno del boia della GIA, della morte di un altro giornalista, un altro inviato. Una morte ancora una volta terribile e lasciamo quindi gli esteri ma anche la politica nazionale incentrata soprattutto su quelle che dovranno essere le modifiche da portare al comparto dell'istruzione pubblica per occuparci adesso di notizie di stampo locale. Lo facciamo partendo con la questione rifiuti, lo vediamo sulla prima pagina di Ostia Litorale, l'inserto del messaggero dove viene affrontato quello che è il piano anti emergenza. Un'emergenza che ha affiaccato la capitale per ben due volte negli ultimi mesi, una capitale che non ha saputo fronteggiare a quello che era l'accumularsi di rifiuti all'interno ma anche intorno ai cassonetti romani. Quindi parte il nuovo tritovagliatore e 200 tonnellate di spazzatura saranno trasferite all'estero. A Belletri intanto si punta a realizzare una discarica per accogliere anche l'immondizia di Roma. In sostanza è in estrema sintesi la notizia. Andiamo allora a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta. È pronto il piano anti emergenza dell'AMA per il prossimo autunno. Mette in funzione il nuovo tritovagliatore di Roccacencia e gioca alla carta del trattamento di 200 tonnellate fuori Roma, puntando anche sugli inceneritori all'estero dopo le richieste di Spagna, Svezia, Danimarca e Ungheria. Altri 500 operatori lavoreranno per la differenziata ma intanto a Belletri spunta un progetto di un privato che vuole realizzare un TMB, un impianto di compostaggio e una discarica. All'interno ci sono ovviamente anche altri approfondimenti che vedremo più tardi. Altra questione di cui si sta tanto parlando negli ultimi giorni è quella di Tordivalle con i tormenti del Partito Democratico e no all'abbraccio con il privato. Alla fine il sì condizionato del PD romano all'operazione di Tordivalle è impastato di tormenti, autocritiche e dubbi. C'è stata l'impressione di un abbraccio tra privato e amministrazione. Noi poi abbiamo contribuito con una discussione disordinata. Il pensiero del capogruppo del PD in Campidoglio, Francesco D'Ausilio. Anche questa questione sta facendo molto discutere e sta creando non poche perplessità soprattutto riguardo alla zona circostante, la struttura in questione e alle infrastrutture che al momento mancano, sono totalmente carenti. Il caso, quasi 800 verbali per la sosta, siamo invece ad Ostia dove per l'isola pedonale sono state emesse multe per 40 mila euro, un vero tesoro. Ecco qui proprio nell'immagine un'auto parcheggiata e rimossa dai vigili urbani. Altre notizie dal litorale ma prima però andiamo sul web per occuparci ancora. Un attimo di capitale Alessandro. Sì Giulia, andiamo a Roma. Ha sgomberato il Cinema America che era stato occupato di recente, rischia di scomparire. Ha parlato di questo anche Sorrentino, ragazzi eroi, con loro la cultura in centro. Ha sgomberato il Cinema America occupato a Roma quando le forze dell'ordine sono arrivate nello stabile in Via Natale del Grande, nel quartiere Trastevere. All'interno c'era una sola persona. Le operazioni si sono svolte quindi senza incidenti. La sala nel cuore di Trastevere ha cessato le proiezioni ufficiali nel 1999. Come il Teatro Valle era luogo di un'occupazione storica nella capitale. Lasciato per 14 anni in stato di abbandono, il 13 novembre del 2012 il cinema era stato occupato. Recentemente il Ministro dei Beni Culturali aveva richiesto il vincolo di interesse storico-artistico. Ma negli ultimi giorni la proprietà aveva preteso lo sgombero, cacciando subito gli occupanti. E la loro replica non si era fatta attendere. Perplessi da questa richiesta di sgombero della proprietà, soprattutto per il momento in cui viene nuovamente avanzata. A 90 giorni dalla posizione definitiva dei vincoli, due giorni dopo la direttiva ministeriale del 26 agosto 2014, volta alla tutela della destinazione d'uso di tutte le sale cinematografiche che rivestono significativi riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura del nostro Paese. E quelle esistenti almeno dal 1 gennaio 80, annunciata dal Ministro Franceschini in persona al Festival del Cinema di Venezia, citando proprio come esempio la vicenda del Cinema America. Qui intanto ci sono alcuni scatti dello sgombero, vedete le operazioni che si sono svolte in totale tranquillità. Il 29 luglio infatti vi aveva fatto visita incontrando gli occupanti proprio il Ministro Daio Franceschini, comunicando che il MIBACT aveva avviato la procedura per apporre il vincolo alla destinazione di interesse storico-artistico in relazione alla presenza di mosaici, opere realizzate negli anni 50 da Anna Maria Cesarini Sforza e Pietro Cascella nella sala di Via Natale del Grande. Schierato, come dicevamo, in difesa di questo storico cinema anche il regista Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar per il film La Grande Bellezza. Lo ha definito uno sgombero anacronistico che fa insospettire, lascia pensare che si voglia dare una gestione diversa alla sala perché mancava ancora qualche giorno al vincolo del Ministero. Sorrentino dice la paura è che si possa replicare uno schema che abbiamo già visto in altri luoghi dove si fa finta di mantenere la destinazione d'uso. È già accaduto col Metropolitan e San Lorenzo in Lucina, un Sorrentino che poi ha apprezzato l'impegno dei ragazzi nel difendere questa storica struttura in disuso. Velocemente si oppongono i cittadini romani e non solo al salasso della nuova ZTL. Rincari record è scoppiata una rivolta. Oggi il Tar decide sugli aumenti dei permessi in centro. Cifre ridicole per le auto del Vaticano. Ancora dalla capitale si parla di cronaca, uno shock, aggredisce un uomo, gli taglia un orecchio e lo conserva a casa come un trofeo, lo aggredì con un taglierino senza motivo e dopo averlo immobilizzato gli tagliò un orecchio, una violenza inaudita che nasconde una realtà ancora più agghiacciante. L'uomo, un 21enne romano, ha conservato l'orecchio in casa per mesi in un barattolo pieno d'alcol, come fosse un trofeo. Il fatto risale al giugno scorso e sono riusciti gli agenti, dopo diverso tempo e indagini mirate e molto curate, ad acciuffare questo 21enne romano che gravitava in diverse zone, tra cui anche quella di San Lorenzo. Per cui un'operazione positiva per gli agenti del commissariato San Lorenzo. Grazie Alessandro per questi aggiornamenti dalla Capitale e torneremo su Roma tra pochissimo. Prima altri titoli dalla prima pagina e poi vediamo gli approfondimenti su quella che è, a quanto pare, la risoluzione dell'emergenza rifiuti. Siamo per il momento a Nettuno, dove dà fuoco alla slot dopo le minacce al titolare ed è stata aperta la caccia all'uomo con il pass a montagna e la tanica di benzina. E poi ancora altre notizie di cronaca in prima pagina. Ad Ardea, una lite con il fratello a colpi di mannaia e praticamente accecato dalla rabbia, si è scagliato contro l'anziano fratello al termine di questo litigio. Vittime e aggressore sono di origine siciliana, da tempo residenti a Torsa Lorenzo. Il ferito ha 82 anni, l'ha arrestato per lesioni, ne ha invece 5 a 3 e da diversi precedenti penali. Ancora una notizia di cronaca, furti in casa, sgominata la banda del litorale, è stata ribattezzata proprio Casa Bancomat, l'operazione della polizia di Terni, che lunedì notte ha permesso di arrestare tra Torbaianica, Palestrina, Ostia e la Capitale, e gli ultimi 11 membri di questa banda di cittadini albanesi che da febbraio ad agosto ha messo a segno centinaia di furti in appartamento nelle province di Terni e Roma, diciamo che hanno spaziato abbondantemente per i loro colpi. Ora sono tutti finiti in manette, sono stati assicurati alla giustizia. Come vi dicevo, altri dettagli su quello che è il piano per l'emergenza rifiuti di Capitolina? Un nuovo impianto e rifiuti fuori città a settembre, quindi entrerà in funzione il tritovagliatore di Roccacencia con una gara per trattare 200 tonnellate di immondizia fuori dalla regione. L'azienda preme l'acceleratore quindi sulla differenziata e prepara un bando per portare CDR anche all'estero. 200 tonnellate, vale a dire la capacità di trattamento al giorno del nuovo tritovagliatore, 5.400 i cassonetti in più svuotabili durante l'arco di una giornata e poi 100 i controllori per la verifica nei municipi dei lavori di spazzamento e raccolta e 30 le squadre di pronto intervento sul territorio. Questi sono i punti chiave sintetizzati dal messaggero e sono i punti appunto per dare risposta a questa emergenza romana che negli ultimi periodi si è fatta sentire più del solito. A Belletri intanto spunta una discarica anche per l'immondizia di Roma, lo avevamo visto in prima pagina. Il progetto per la costruzione di un TMB a 5 archi è stato depositato il 25 di agosto e ieri c'è stato il sopralluogo del sindaco Servadio. Tra pochi giorni partiranno inoltre i rilievi tecnici. Per quanto riguarda le novità è incluso anche il porta a porta. Entro la fine dell'anno il nuovo sistema di differenziata sarà esteso ad altri 500.000 romani e poi il tritovagliatore come abbiamo visto entrerà in funzione a fine settembre a Roccacencia e poi il conferimento all'estero. L'azienda sta preparando un bando europeo per portare anche fuori dall'Italia i rifiuti. Inoltre gli operatori altri 500 saranno utilizzati per il rafforzamento della raccolta differenziata. Questi sono in estrema sintesi i punti salienti di questo nuovo piano di cui sentiremo sicuramente parlare tantissimo anche nei giorni a seguire. Ci fermiamo ancora un istante per una ultima breve pausa e poi torniamo per l'ultima parte della rassegna con i comuni della provincia sud. A tra poco.